Si intitola all'assunta la mostra fotografica che sarà ospitata presso la cattedrale del Duomo di Fermo fino al 15 settembre. In particolare i dodici scatti in bianco e nero che ritraggono il gruppo scultorio che si trova nell'abside della chiesa, opera dell'artista fiammingo Giacchino Varlet, è ospitata nella Cappella dell'Immacolata e rappresenta l'opera in tutte le sue sfaccettature. Solitamente il gruppo scultorio viene visto dalla chiesa, in particolare dal basso, ma Mare la ritratta in tutte le sue angolazioni utilizzando anche le balconate dell'organo. Sicuramente mancava vederla nella sua completezza e vedere tutte le particolarità che la differenziano dalla visione dell'occhio umano da terra, perché sono stati fatti gli scatti anche da molte parti dove non c'è accesso al pubblico, come ad esempio il cornicione sopra, la parte dell'organo, la balconata dell'organo, di sinistra e di destra e quindi sono tutti posti non visitabili al pubblico ad oggi, ma che comunque sia ritraggono delle angolazioni molto diverse da quelle che vediamo normalmente. La mostra, nata da un'idea della Rettore della Cattedrale, Don Michele Erogante, voluta dal Vescovo di Fermo, Monsignor Pennacchio, si inserisce nel quadro devozionale che la città tributa da sempre alla sua patrona, Maria Assunta in cielo, festeggiata il 15 agosto. Diciamo che riportare al centro proprio l'Assunta nella città di Fermo riesce anche a coinvolgere proprio il Duomo e tutto il discorso restante dell'intorno. Fotografare questa statua è stata una delle cose più importanti e per me è stato un onore vedere tutte le rappresentazioni delle 12 foto, perché sono state scelte appunto il numero 12 come le 12 stelle della Corona della Madonna. L'esposizione dei 12 scatti è visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e 30 e nel pomeriggio dalle 15 e 30 alle 19 con ingresso gratuito.